Ah, armatura pesante e del sangue, ma nessun corpo. Doveva andare di fretta per lasciare un caos del genere. Queste armi sono di un soldato, non di Mima. Continua a cercare. Dario, non c'è traccia di Mima. Solo scorte e attrezzatura militare. Si sta nascondendo. Bene. Alexios, vieni qua. Un sentiero che porta sulle montagne. Andiamo. E il meccanale di fuoco, poi luce negli. Perché credi che Mima sia andata di qui? A volte bisogna guardare più a fondo e sprendere le menigie. Il ponte era ben sorvegliato. Non hai visto? Passare di lì era rischioso. Mima non l'avrebbe fatto. Non hai visto. Non hai visto. Sì. Dai. Dai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.